Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Game Princess. Io sono Erika, siamo fuori da EA Play dove ho avuto modo di provare tra le altre cose Need for Speed Payback. Passano le persone col carrellino un attimo solo che qui c'è un sacco di traffico. Posto? Ok, stavo dicendo Need for Speed Payback. Payback perché l'argomento principale di tutto il gioco sarà la vendetta di tre personaggi differenti. Abbiamo avuto modo di provare una sequenza piuttosto breve, la stessa che avete visto in conferenza, quella dove c'è il camion da assaltare. Prima di poterla assaltare però dovete prendere un po' sportellate le altre macchine, quindi dagli un po' dei pugni con le portiere per mandarli fuori strada. Dovete spingere tantissimo e speronare il camion finché non si apre tutto e a quel punto assaltate tutto quello che c'è da assaltare, perché dovete recuperare una macchina assolutamente fighissima. Devo dire che il gameplay mi è piaciuto, tenete conto che tutta questa parte un po' action è tutta in cutscene, quindi non siete voi il personaggio, voi continuate a guidare come sempre stato praticamente in tutti i Need for Speed. Dal punto di vista grafico è veramente bellissimo, è molto cinematografico con tutte le scene a rallenti, quindi è molto bello. c'è un po' di differenza, devo dire, tra le scene in computer grafica e il Frostbite, però in linea di massima devo dire che se la cava assolutamente bene. Direi che è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e io vado prima che passi l'uomo col carrellino. Ciao!